Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e se siete nuovi sul canale vi spiego un attimino chi sono e cosa faccio. Io sono un collezionista e venditore di carte Pokémon e sul mio canale ogni settimana vi porto sempre nuovi video relativi a tutte le carte che compro, le carte che vendo e tante piccole guide e tutorial per collezionisti ed aspiranti venditori proprio come me. Oggi, lo vedete già, finalmente abbiamo un video dei miei nuovi arrivi. Quindi avevamo, adesso vi spiego perché, un solo pacchetto che avevo iniziato ad aprire ma poi sfortunatamente ho scoperto che questo era l'imballaggio che tutto sommato mi piace molto. Purtroppo c'era anche qui scritto il mio indirizzo e insomma per motivi di privacy non mi piace farlo vedere a tutti. In ogni caso, come vedete, come probabilmente vedete dal titolo di questo video, oggi nonostante ci sia solo un pacchettino, un piccolo lotto, il contenuto di questo piccolo imballaggio sarà davvero pazzesco. Sono super super contento di essere riuscito a fare questo affare, queste carte le ho comprate su ebay circa una decina di giorni fa per 40 euro, però ragazzi vedrete, vedrete delle cose. Allora, secondo me ho fatto uno dei miei migliori affari negli ultimi mesi, onestamente. Adesso quindi, con calma, proviamo ad aprire, bisogna anche cercare di vedere, di non rovinare o tagliare altre carte, che è sempre la paura mia. Ok, allora, nascondo un attimo, nascondo un attimo perché qui ragazzi si va subito, si va subito, subito, subito alla grande. E, wow, ok, 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 ragazzi, si parte, boom! Allora, abbiamo un, facciamo così, facciamo così, ce li guardiamo uno per uno perché ragazzi, cioè, sono carte davvero fenomenali. Allora, abbiamo un Umbreon del set, immagino sia senza paura, sì, sì. Ah, ed è messa in una di quelle bustine che si caricano, tra virgolette, dal lato. Vediamocela un attimo. Allora, olografia bellissima. E carta davvero, davvero tenuta bene. Voi, come ben sapete, che vi spiego, che vi ho spiegato anche in molti altri video, la cosa molto molto bella di tutte le Eeveolution è che, nonostante magari siano anche solo carte rare o non olografiche o comunque anche abbastanza comuni, ci sarà sempre qualcuno che le vorrà perché, ovviamente, sono Pokémon molto molto amati dai fan e ci sono collezionisti anche solo che collezionano solo i Eeveolution. Quindi, in ogni caso, sono delle ottime carte per investire o per, insomma, spendere qualche soldino in più perché sono, insomma, tutti dei buoni investimenti. Non andranno mai fuori moda, secondo me. Sono come, appunto, i Charizard di turno. Quindi, andiamo avanti perché qua abbiamo un altro Umbreon. Questa volta, questo penso che sia Esploratori delle Tenebre, penso. Però, non so, questo non contate su di me. Questa, appunto, infatti, non è neanche una rara, è solo una non comune. Però, guardate che occhioni. Questa è un'ottima... è una carta molto molto bella. Vediamo se riesco... sì. Ottima, 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 ottima. Bellissima carta, bellissima carta. Poi... Altro Umbreon. Altro Umbreon. Questo è un altro degli Esploratori delle Tenebre, penso. Che poi, magari, appunto, non sarà neanche Esploratori delle Tenebre e ho fatto una figuraccia, come il mio solito, con i nomi dei set. Guardiamoci. Questo è un altro Umbreon non comune. Altra artwork bellissima. Gli Umbreon sono... sono proprio disegnati alla grande. Anche questa, fantastica, fantastica. E tra un po' entriamo nel vivo del video. Allora, qui abbiamo un Umbreon, i ex specie delta, italiano, holo stamp, con lo stampino qui. Ah, addirittura double sleeve, ragazzi. Questo... questo venditore è il top. Devo fargli una super recensione. Vediamo un attimo. Beh, il fronte è tenuto molto molto bene. Il retro, ovviamente, lo sapevo. Qualche puntino bianco. Ma guardiamola solo un altro po'. Questa è bellissima. Questa è davvero bellissima. E siamo solo all'inizio. Siamo solo all'inizio. Allora, qua invece ci spostiamo su sole e luna. Questa è l'Umbreon GX. Altra carta molto molto bella. E anche Mint, tenuta benissimo. Fantastico, fantastico. E già lo vediamo, già lo vediamo. Finalmente iniziano ad arrivare le bombette del video. Allora, gli Umbreon li sistemiamo qui. E ci spostiamo invece su un Neo Discovery, su un Umbreon Neo Discovery olografico in inglese. E vediamo invece le condizioni di questo. Vedo un graffietto qui. Ma oltre a quel graffietto... Cavolo! Oltre a quel graffietto... Ok, sì, c'è anche un po' di... C'è anche quello stesso graffietto, forse? No, no, no. Però c'è un altro graffio che si vede molto molto. Forse un puntino di pressione qua. Però ragazzi, tutto sommato, questa carta è tenuta benissimo. E stiamo parlando di un Umbreon Neo Discovery olografico. Io oggettivamente, come al solito in questo caso, vi metterò in sovraimpressione i prezzi attuali. Ma secondo me, questa carta in queste condizioni, almeno 15€, credo li valga. Ma secondo me, secondo me... Beh, io questa la reputo un excellent. Quindi forse... anzi, sono quasi sicuro che qualcuno spenderebbe anche forse una ventina. Però magari... magari mi sbaglio. Ovviamente voi che mi state ascoltando in questo momento parlare avete già visto il prezzo che normalmente metto. Ragazzi, qua invece ci spostiamo in territorio pericoloso, pericolosissimo, perché siamo in terra giapponese con Aquapolis o Expedition numero 2, appunto. Olografico, olografico, dal fronte fenomenale. Tra l'altro questa è anche una prima edizione. Il retro so che aveva, esatto, so che aveva un angolino un po' sbeccato. Però per il resto... wow! Ragazzi, guardate che artwork! Guardate che olografia! Ecco, immaginate, cioè già qui secondo me... Già qui secondo me i 40€ li ho già superati ampiamente. Quindi sono davvero, davvero, davvero felice di questo acquisto. Andiamo di nuovo perché abbiamo un Umbreon, appunto questa volta inglese, sempre di Aquapolis. Sfortunatamente non è quello olografico, bensì abbiamo una Reverse Olo. Vediamo un attimino le condizioni di questa. Che di solito sono molto molto graffiate le Reverse Olo. Questa neanche tanto, vedo però qua sull'angolino qualcosa di un po' messo male. Il retro così così, qua c'è un po' di sporco ma questo va via. Però comunque in ogni caso... Voi lo sapete, io difficilmente mi lamento di quello che acquisto. Anche certe volte, quando magari dovrei farlo. Però, insomma, Umbreon mi sa che sono finiti. Perché adesso si passa a Espeon. E con Espeon siamo di nuovo a... Gli ex guardiani delle... Esploratori delle Tenebre? Non lo so. Lo scopriremo, lo scopriremo. Questo è una rara. Questa è una rara. Non olografica. Altra artwork bellissima, con le bolle attorno. Molto molto bella. In italiano, che forse l'ho già detto. Praticamente... Sì, forse a quest'angolino ho messo un po' maluccio. Quindi non dico Nier Mint perché poi qualcuno magari si arrabbia. Però, onestamente, una carta così è quasi una Nier Mint. Dai! Ah, ah! Ecco qua un'altra cosa davvero, davvero pazzesca. Qua siamo di nuovo... Mamma mia, non riesco a tirarla fuori. Qua siamo di nuovo su Neo Discovery. Questa volta non in inglese, bensì addirittura in italiano. Anche questa mi ricordo dalle foto che forse non fosse. Eh, infatti, infatti. Qua abbiamo una pieghetta davvero impercettibile, però purtroppo... Eh, no, anche qua. Ok, questa non è tenuta. Non è tenuta benissimo. Cioè, ci sono tanti graffi sul retro. Cavolo, peccato, peccato, perché questa era la carta... La carta più, forse, importante. Magari, forse, accanto all'Expedition in prima edizione e l'Umbron è la sua controparte, è la sua controparte sempre di Neo Discovery per la versione buio. Ma, insomma, non mi lamento. Come vi ho detto, questa è comunque una carta pazzesca, bellissima. Peccato davvero per queste... per queste pieghe. Peccato, peccato. Non mi ricordavo... non me le ricordavo così importanti, sfortunatamente. Però, insomma... Dai, non c'è male, non c'è male. Andiamo avanti, perché qua siamo, se non ricordo male, di nuovo, appunto, su... Senza Paura, sul set Art Gold, Soul Silver, Senza Paura. E forse questo è stato addirittura il... il secondo set uscito subito dopo il set base di Art Gold, Soul Silver. Però non vorrei dire cavolate. Questa è la... la Shutter Olo, mi pare, si chiami. Bellissima anche questa. Ecco, l'olografia in sé neanche tanto, neanche tanto. L'artwork, sì, non è... non mi ispira particolarmente, però l'olografia la rende comunque fantastica. Condizioni buone, direi. Condizioni molto buone. Rimettiamo nella Sleeve, lo nascondiamo qui e andiamo avanti. Questa che carta è? Questo... guardate che occhioni qua. Questa è un'altra olografica del set Porca Miseria... Ehm... Richiami... richiami... richiamo delle leggende. Richiamo... richiami delle leggende, forse. Beh, lo scopo... uh, guardate che swirlona qui. Bellissima, bellissima. Altra carta... forse, sì, un peletto imbarcata, ma insomma, mettendola dentro un top loader e tenendola per qualche mese, si mette a posto. Dietro, ragazzi, bellissima. Qualche puntino bianco solo qua sopra. Ma comunque, altra carta davvero, davvero pazzesca. Si mette qui. Ancora Neo Discovery, però questa volta non olografica. Questo è un altro Espion, che tra l'altro ne ho già un altro in vendita proprio su Ebay in questo momento. Tenuto molto molto bene. E anche questo... ah, peccato qua. Insomma, gli Espion Neo Discovery in questo lotto purtroppo non erano... non erano messi benissimo. Però... Sono tutte... oh, ragazzi, non so cosa dirvi. Sono tutte belle le carte di Espion e di Umbra. Non so perché. Guardate, qua abbiamo sempre Sole e Luna. Espion, questa volta è un Espion GX. Ce lo guardiamo un attimo. Ce lo guardiamo un attimo prima di andarcene col botto davvero. Che forse l'avete già vista. Bella, bella, bella. Forse qualche graffietto, ma forse neanche no. Perfetta. Carta, carta perfetta. Davvero. Sono... Mi sembra assurdo di essere riuscito a comprare questa cosa qua per soli 40€, davvero. E... Esatto, perché c'è ancora questa. Dark Espion, in questo momento io ho visto dei prezzi davvero assurdi. Adesso cerchiamo di capire bene quali sono le condizioni di questa carta che purtroppo temo che non siano buonissime. L'olografia è un po' graffiata. Però cavolo. Cavolo. Sono davvero sorpreso. Cioè, ragazzi, la vedete? È tenuta benissimo, altro che... Cioè, sì, ovviamente l'olografia è graffiata, però, cioè, stiamo parlando di... Del Dark Espion, di Neo... Oh mio Dio, di Neo Destiny. E... Io sono abituato a vedere... A vedere queste carte veramente distrutte, mangiate, smangiate, con crepe ovunque. Invece, non posso crederci di essere riuscito a veramente prendere tutto questo con così poco. Chissà, chissà cosa è successo. Ma, detto questo, voi, fuori dall'inquadratura, non sapete che questo venditore, oltre ad avermi lasciato tutto questo per 40 euro, addirittura ha deciso di inserirmi un po' di... Un po' di regali. Abbiamo, quindi, un Sylveon EX, che comunque anche questi... Anche questa è una carta bellissima. Questa è... Dovrebbe essere di... Di Generation, sì, esatto, della Radiant Collection. Con Ivi qua dietro. Bellissima carta. Bellissima carta in condizioni... In condizioni pazzesche. Pazzesche sul serio, pazzesche. E poi, e poi... Eh sì, ragazzi, non è ancora finita. Il Sylveon in regalo lo mettiamo qua. E poi abbiamo anche un altro Sylveon GX in regalo. Questa volta in italiano. Guardiamolo un po'. Tutte le Evolution sono davvero... Sono davvero bellissime. Non so che dirvi, non so che dirvi. E adesso, giuro, l'apertura è davvero finita. Guardiamo un attimo, guardiamo un attimo il bottino di oggi. Sono veramente senza parole. Questo Umbreon... Anzi, il doppio Umbreon... Bellissimi. E poi, forse, il super protagonista, credo sia il Dark Espeon. Sì, sì, sì. Il super protagonista, un po' per la condizione, perché se no... Diciamo... Degli Espeon... Dei Neo Espeon... Forse questa è la mia artwork, che è l'artwork che mi piace di più, perché c'è, insomma, l'effetto specchio. Però, però, qui vince la condizione. La condizione di questo Dark Espeon. Davvero... Ragazzi, ottimo! Detto questo, fatemi sapere assolutamente qual è l'artwork che vi piace di più di... Di queste carte che abbiamo aperto oggi, perché ce ne sono... C'è veramente l'imbarazzo della scelta. Ho dovuto fare un piccolo taglio e... E comunque eravamo arrivati alla fine del video. Ragazzi, grazie di essere stati con me fino alla fine, se ci siete ovviamente. E non dimenticatevi di lasciarmi un mi piace e di iscrivervi ovviamente se non l'avete ancora già fatto. Da Make a Wish, anche questa volta è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!